26 novembre 2011 in lontananza il mio caro amico raffaele a raffaele siamo appena arrivati questa è una magica terra quindi nelle vicinanze abbiamo il primo bocciottino che bello ma che bello piccoletto comunque amici siamo al 26 di novembre copriamo la buca 26 novembre 2014 ancora troviamo i Pinofilus a dopo amici